La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati S.P.A. Amici sportivi di Dilettanti Gol, buon pomeriggio. Con le telecamere di Telecittà siamo oggi nell'Alta Padovana, udicesima di andata del campionato di prima categoria Gironee fra San Giorgio in Bosco e Janus. 22 punti per i locali, solo 6 per la matricola ospite. Cielo sereno, temperatura intorno ai 7 gradi, le formazioni. San Giorgio in Bosco, in completo rosso. Ferronato, Santinon, Torresin. Bartolomei, Levantesi, Mirko, Gallo. Ferro, Meneghin, Niucheca, Rossato, Molin. A disposizione di Mister Piero Bon, Ereno, Mason, Villatora, Pelosin, Brugnaro, Levantesi, Matteo. Janus, in casacca Oro. Pagnin, Candeo, Monopoli. Cerbo, Gasparini, Furlan, Marcelli, Nuanze, Eche, Sponton, Licchetta. A disposizione di Mister Esposito, Maso, Zanardi, Elia, Baraldo, Lacini, Fiorini. Primi minuti di studio, poi al nono, locali in avanti. Monopoli, Strattona, Molin. Minozzi, Fischia e Rigore. Bartolomei, dagli 11 metri, trova la prodezza di Pagnin, che si salva in angolo. Occasionissima sfumata. Ventesimo, spiovente in area, ha la deviazione aerea a Niucheca, ma Pagnin si allunga e salva con la punta dei guantoni. Il primo tempo va in archivio con un calcio di punizione, che mette i brividi alla difesa dello Janus, poi l'azione sfuma. Dopo i primi 45 minuti, Reti ancora inviolate. Con le immagini montate da Daniele Arena, passiamo alla ripresa. Passano due minuti. Bartolomei calcia con potenza, Pagnin respinge. In area Janus, ancora un episodio da Moviola. Molin si muove bene, controlla palla, poi cade. Scivola o subisce fallo, per il direttore di gara è giallo all'attaccante, ovvero espulsione. San Giorgio in bosco in 10 dall'ottavo della ripresa. Minuto 22, un rimpallo favorisce gli ospiti, sfera a Marcelli che ci prova da lontano, ma ferronato c'è. Due minuti dopo, la stafilata di Pelosin, nuovo entrato, su punizione, palla sopra la traversa. Meneghin, controllo e tiro, sul fondo. Ancora Meneghin, si accentra e tira, Pagnin di Pugno si oppone. Trentaquattresimo, Niccolò Fiorini su punizione, ottimo sinistro a fil di palo, ferronato si fa applaudire. Sul finire di gara, la superiorità numerica sembra farsi sentire. La Cini riceve da Fiorini, poi fa partire un destro che finisce a lato. Quarantatresimo, Nuanze dalla lunga distanza. Tre minuti di recupero non cambiano il risultato maturato fino al novantesimo e la gara si conclude sullo 0-0. Pagin Prefabbricati S.P.A. è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati, progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati S.P.A. a Reschigliano di Campodarsico, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box S.R.L. Paolo Sanguin, settore calcio della IANUS, presidente. Abbiamo visto assieme la partita, un punto guadagnato? Sì, un punto guadagnato con onore, considerando che abbiamo giocato in casa della prima classifica, anche se francamente pensavo che riuscissimo a sfruttare il vantaggio numerico che avevamo. Comunque senza nessun ramarico ci accontentiamo anche di un punto considerando la prima classifica e questo ci fa pensare che per il futuro, adesso che abbiamo ritrovato la squadra al completo, priva fino adesso con la sfortuna dall'inizio del campionato che abbiamo avuto, priva di quei giocatori per causa di gravi infortuni che abbiamo subito. Adesso abbiamo una squadra al completo che, visto la partita di oggi, ci fa pensare a un buon recupero di classifica. E questo ci ritroviamo, senz'altro, soddisfatti da oggi. Allora, IANUS è da Selvazzano. Ci vuole spiegare l'origine della società che è del 2010, mi pare? Esatto. Allora, IANUS è un nome antico, storico di Selvazzano, dal quale deriva. La IANUS è una nuova polisportiva che è nata dall'anno scorso, il quale ha lo scopo di raggruppare tutte le associazioni sportive del paese in un unico nome che si chiama IANUS. E questo è il secondo anno di attività di questa polisportiva che comprende calcio, pallavolo femminile, basket e rugby. E con noi Piero Bon, mister del San Giorgio in Bosco. Allora, oggi l'abbiamo sentito urlare da bordo campo, ma un punto perso o un punto guadagnato? Visto come sono andate le cose, secondo me è un punto guadagnato. Guadagnato perché in 10 contro 11 dopo avevamo delle difficoltà e perciò tutto sommato è andata bene. Cosa è mancato per andare a segno? Un po' di tranquillità, ma è stata causata anche da un arbitraggio un po' pericoloso, dubbio, perché noi siamo una squadra che ci vantiamo attraverso questi anni di avere un certo tipo di comportamento. Invece purtroppo siamo stati penalizzati da munizioni, da un'espulsione secondo me dubbiosa e perciò questo ha portato di conseguenza un po' di nervosismo che ci ha causato anche dopo un po' di complicazioni a livello di gioco proprio. Il secondo giallo a Molin, per proteste o per simulazione? Simulazione, ma anche loro, gli avversari effettivamente sono stati fermi perché pensavano anche che loro fosse un fallo da rigore e d'altronde lui ha visto così e è a posto. Luigino Brugnaro, direttore sportivo del San Giorgi in Bosco vuoi commentare tu la partita di oggi? La partita purtroppo è andata male perché noi siamo partiti per vincere questa partita perché era nelle nostre possibilità. Abbiamo avuto anche una grossissima occasione col calcio di rigore che purtroppo abbiamo fallito bravo anche il portiere che l'ha parato ma un rigore che non è segnato è un rigore sbagliato. Dopo purtroppo noi siamo stati abbastanza lucidi per fare azioni importanti e si possono anche perdere queste partite dunque tutto sommato il pareggio può anche starci però la partita e la gara è stata condizionata secondo me dall'episodio del calcio rigore sbagliato all'inizio che poteva spianarci la strada e da un'espulsione che ritengo ingiusta. Purtroppo l'arbitro è in campo lui ha visto così e noi non rimane che accettare. Un punto diciamo siamo nelle zone alte della classifica comunque non sappiamo ancora i risultati delle altre il vostro obiettivo della stagione? Il nostro obiettivo è di fare meglio dell'anno scorso dove l'anno scorso siamo arrivati sesti purtroppo oggi abbiamo perso un'occasione importante perché pareggiare in casa dove secondo me si poteva fare meglio dispiace insomma ecco dopo alla fine non lo sappiamo dove possiamo arrivare il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile comunque ecco Massimiliano Esposito mister De Loianus un punto guadagnato oggi? Sì un punto guadagnato su un campo difficile abbiamo sempre giocato con la prima in classifica quindi sicuramente all'inizio le aspettative non erano delle migliori però i ragazzi stanno facendo bene sul piano delle prestazioni stiamo facendo benissimo siamo un po' sfortunati per quanto riguarda i risultati però oggi direi che oltre alla prestazione ci ha accompagnato anche un pizzico di fortuna peccato verso la fine potevamo anche meritare qualcosa in più L'inserimento di Pagnin una certezza per il reparto difensivo? Assolutamente sì oggi l'ha dimostrato se abbiamo portato a casa un punto importante grazie a tutti ma soprattutto grazie a lui che con la sua esperienza con la sua tranquillità ha tranquillizzato il reparto difensivo e con una prudezza sul calcio di rigore ha permesso alla squadra come dicevo prima di portare a casa il pareggio Hai provato anche a vincere verso la fine? Sì, verso la fine avevo due attaccanti avevo due esterni e il terzino destro che spingeva tanto quindi qualcosina abbiamo provato anche perché loro erano uno in meno e quindi abbiamo cercato di spostare il baricentro un pochettino più avanti però non è voluto entrare abbiamo spiegato in un paio di occasioni però ripeto è un punto che muove la classifica che fa morale e adesso giovedì penseremo alla partita del recupero In una parola l'obiettivo? L'obiettivo è la salvezza è dall'inizio dell'anno che stiamo lavorando per questo quindi l'obiettivo sicuramente rimane quello e speriamo di ottenerlo La ditta Jolly Box SRL presente da quasi dieci anni sul mercato è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi quali uffici, mense, bar, biglietterie, box servizi igienici e spogliatoi I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità flessibilità ed economicità Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato dalla civile all'industriale dal privato al pubblico e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa Studio della soluzione ideale alla preventivazione Consegna l'installazione e ritiro pulizia, supporto tecnico sicurezza, la copertura assicurativa Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova telefono 049 920 1683 Radio Padova Al prossimo Smells